Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova apertura di Animal 3D Action 3D Card, vabbè, stupiraggi. Allora, nella scorsa apertura abbiamo trovato un pappagallo, un canguro e uno squalo, che metterò il link in descrizione. Allora, oggi apriremo due cosi, senza far vedere il pacco delle brioche. Allora, cominceremo subito. Allora, vi dico già una cosa che non l'ho vista. Allora, scusatemi se nella scorsa apertura non ho messo le canzoncine, la We Are The Champions, perché mi sono pienamente scordato. Quindi, in questo caso, spero di ricordarmi di metterle qua. Allora, come al solito, se qua esce un doppione, non so che fare, però se non lo esce, metto We Are The Champions. 3, 2, 1. Ok, allora, abbiamo trovato una giraffa. Meno male. Se no l'avrei distrutta, la gara. Ok, 2 giraffe. Wow, sono strambe. 2 di cose, vabbè, si apre sempre da qua, si spinge. Ok, qua la giraffa con tutte le cose e il QR code che sta qua. Allora, mettiamo, vabbè, così. Eeeh, mi sono scordata di fare... Vabbè, comunque qua abbiamo un leone. Vabbè, mi sono scordato, scusate. La metto come di sottofondo. E qua abbiamo un leone. Ecco, bellissimo. Sembra quello di Aslan di Narnia, vabbè. E niente, per questa apertura è tutto. Per ora, in tre aperture, manca un doppione. E niente, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi.